www.mesmerism.info 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 No, 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 no. un fratelli tani, anaonea ye. Das again, nidoa za society matessa natupe. Geni, tunawahumia masichana. Siweze, finatamane kutoka nidoa munaingia. Kumbe matatizo, unaleta mwene, mwene, kwa hendo, unahata kumambia mama, badinisha na muna, finally, ya kuonge. Uambia watu, ndoa ni paradiso. Ndoa inaupepo mwanama. Ndoa nisaidi, ya nisaidi ya maafari ya tuokegu. Ndoa nisaidi ya ikuru yoyote. Ndoa nimaipa mapunusiko. Unahata kuhumba ndoa yako. Yamani, yamani. Ya ikuwa lapetu, natagazo chumeli nga mtijadicho. Angeju. Angejuwa nimi? Hayo mwene, pata wewe, tukosahabu, mtijidyo, unafeugea. Wambandoa ni matatizo. Sukama naongea na mtuako. Nawashauni mabinti, msiolewa, msitishwe, ndoa ni paradiso. Na muanzilishi wambandoa, kasema, si zema mtu kukapeke yake. Mana yake, ni fema, maa, watu wawiri, ukama pamote. Tena bibire, nesema, heli wawiri. Na neno nako sikia heli, ni kinyume chaole. Nona, heli wawiri, kuliko mmoja. Mana mmoja kiamuka, mngini atamwenoa. kina wanawake, mwana, 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 Il nostro corso, il nostro corso, il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Lo scopo è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.